Sì, è un passo in avanti e quindi ieri è stato un giorno di festa perché comunque nonostante il tremendo ritardo dell'Italia prima non c'era nessun diritto riconosciuto alle coppie, di fatto adesso sì. Veronica Vasardi, giovane presidente dell'Archigay di Arezzo, non può che essere felice per il primo passaggio alla Camera della nuova legge sulle unioni civili. Il ritardo con cui l'Italia arriva a questo traguardo di civiltà fissa la data dell'11 di maggio come storica ma in realtà i diritti rimasti ancora non normati per le coppie omosessuali sono molti quindi non si può parlare di equiparazione con la famiglia eterosessuale. Rimangono fuori soprattutto i diritti dei bambini, non viene riconosciuta la genitorialità nelle coppie e poi ci sono state appunto addirittura si è parlato della fedeltà, non c'è neppure il dritto, il dovere, l'obbligo alla fedeltà. Si potrà dire, cioè questo diciamo che forse sono gli eterosessuali che adesso dovrebbero lamentarsi e chiedere questo diritto anche per sé. Comunque battute a parte, chiaramente quello che auspichiamo è la piena uguaglianza, quindi l'accesso al matrimonio per tutti. Si chiamano unioni civili ma per noi quando inizieremo a celebrarli saranno comunque dei matrimoni. I comuni non potranno esimersi dall'applicare la nuova legge una volta completato l'iter ma sindaci e consiglieri comunali possono rifiutarsi di celebrare le unioni civili come Mario Agnelli, sindaco di Castiglione Fiorentino che a suo tempo mise i puntini sulle i. Il mio criterio di famiglia è uno soltanto, quindi sono diciamo in linea con chi considera la famiglia tradizionale composta da un uomo o una donna senza entrare nel merito di tutto quello che poi può prevedere questo decreto sulle adozioni. Non ho detto che sono contro qualcosa, io sono per la famiglia tradizionale. Più diplomatico Alessandro Ghinelli ma non lo vedremo mai con la fascia tricolore di fronte ad una coppia omosessuale. Io non celebro matrimoni, non li celebro per un motivo mio del tutto personale perché sono divorziato e quindi non ritengo di avere le caratteristiche per poter celebrare un matrimonio ordinario. L'ho fatto soltanto in poche occasioni perché degli amici personali mi hanno chiesto di essere sposati da me. Mi conterrò esattamente nello stesso modo nel caso degli unioni civili. È il radicale Angelo Rossi, consigliere comunale della maggioranza di centro-destra, ad offrirsi invece come braccio armato di una legge che allinea l'Italia agli altri paesi europei. Il servizio deve essere comunque garantito per legge, quindi se il sindaco non lo vuole fare, se un consigliere non lo vuole fare ci deve essere qualcuno che lo fa. Io comunque mi metto già da adesso a disposizione per sposare tutte, sposare, insomma unire civilmente tutte le coppie omosessuali che ne faranno richiesta, anzi sarò molto onorato di svolgere questo compito anche se fossi l'unico a farlo, lo farò io, non c'è problema.